Sassuolo-Lazio, ventisesima giornata di campionato al MAPEI Stadium, la Lazio di Simone Zaghi cerca, conferme, cerca una vittoria per continuare la lotta ad un posto in Champions League contro il Sassuolo di Iachini con tante novità di formazione ma con la voglia di fare bene. Milinkovic, è il gol, è il gol, Milinkovic, il pallonetto dal limite dell'era di rigore, la palla che si insacca in rete alle spalle di Consigli, Lazio 1, Sassuolo 0, settimo minuto di gioco, la prima discesa della Lazio sull'out di sinistra, il tocco per Milinkovic che ha alzato gli occhi e dal limite dell'era di rigore ha fatto partire un destro che si è insaccato alle spalle di Consigli, Lazio 1, Sassuolo 0. Seguiamo il calcio di rigore però, 30 minuti, 9 secondi, Ciro Immobile contro Consigli, calcio di rigore per la Lazio, la rincorsa di Ciro Immobile che aspetta il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante, parte con il destro, golla, golla, Ciro Immobile, Lazio 2, Sassuolo 0, raddoppio della Lazio con Ciro Immobile, calcio di rigore battuto, alla sinistra di Consigli che aveva intercettato ma nulla ha potuto, la palla si insacca sotto al corpo del portiere del Sassuolo, la Lazio raddoppia alla mezz'ora, Ciro Immobile, sono 23 in campionato per l'attaccante Bianco Celeste, rigore calciato non benissimo, ha ricordato un vecchio calcio di rigore di Tommaso Rocchi in un derby di qualche anno fa, ma alla fine il gol è quello che serviva e la Lazio lo trova, 2 a 0, Ciro Immobile. La Lazio attacca verso quella piccola rappresentanza di tifosi che è presenti con il gol di Milinkovic che va subito a segno, l'assist di Felipe Andersson, il pallone in area di rigore, Milinkovic di testa più in alto di tutti, in sacca alle spalle di Consigli. Grande assist di Felipe Andersson e Milinkovic di testa, mette tutti a tacere, doppietta di Milinkovic, un gol con un destro a girare dal limite dell'area di rigore, un gol di testa. Felipe Andersson ha alzato gli occhi, ha messo il pallone in mezzo e Milinkovic senza neanche saltare di testa in sacca alle spalle di Consigli. Lazio 3, Sassuolo 0. Mancano 20 secondi alla fine di questo Sassuolo. Lazio con i padroni di casa che fanno girare il pallone, con i tifosi del Sassuolo che però si sono già alzati e arriva in anticipo il fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi. La Lazio batte il Sassuolo 3 a 0 con la doppietta di Milinkovic, con il gol sul calcio di rigore di Ciro Immobile, guadagna tre punti importantissimi in questo campionato che le permettono di superare l'Inter, di superare il momento della Roma che affronterà questa sera il Milan e di continuare la sua lotta per un posto in Champions League. La Lazio vince anche questa, batte il Sassuolo e dimostra di essere sempre presente in questo campionato che la vede assoluta protagonista.